L'emergenza loculi a Farello non è superata e anche in queste settimane si registrano lunghe attese per collocare le bare rimaste senza un posto. L'installazione di prefabbricati ha risolto solo momentaneamente la questione che si è riproposta in modo puntuale. Il settore lavori pubblici ha chiuso l'Itar di gara per l'affidamento dei lavori che consentiranno di realizzare 204 loculi. L'appalto da circa 240 mila euro è stato affidato al consorzio Ravennate Ciro Menotti. Sarà il gruppo romagnolo ad occuparsi dei lavori per cercare di alleggerire una situazione altrimenti sempre più preoccupante. Ci sono feretri che attendono per settimane prima di avere collocazione. Il Itar ha più volte stoppato la pratica delle requisizioni dei loculi realizzati dalle confraternite private al municipio e è toccato individuare altre soluzioni. L'obiettivo è di realizzare ulteriori loculi con un progetto complessivo. Si procederà anzitutto con un lotto da 204 posti, un'attività condotta dal settore lavori pubblici con l'assessore Romina Morselli che insieme al sindaco sta seguendo anche il fronte dell'emergenza loculi. Le attività istruttore sono state affidate a RUP Rocco in Cardona e il provvedimento di aggiudicazione porta alla firma della dirigente Fabio Filippino che ha appena ricevuto l'interim proprio per i lavori pubblici. Prima dell'avvio del cantiere sarà comunque necessario effettuare gli ultimi accertamenti di prassi sui requisiti della società.